Buongiorno a tutti, io sono Sento Poco ma Senda. Oggi vi racconterò una storia. Io quando ero piccolino, 15-16 anni, ero impiegato nel centralino telefonico del mio paese, di Villa Literro di Caserta. Quando è nato lei? 10 marzo 1946. Poco dopo la guerra? Dopo la guerra. Così lavoravo, facevo il telefonista. Il telefonista? Eh. Il suo paese è Villa Literro, giusto? Villa Literro, vengi di Caserta. Ex Vico di Pantano? Ecco, prima si chiamava Vico di Pantano, poi Mussolini l'ha cambiato e ha messo il nome Villa Literro. Continui, prego. E poi così, poi, quindi ho lavorato negli uffici in posta. Ha lavorato negli uffici in posta? In posta. Capito. Allora, andavo a distribuzione, andavo a distribuzione delle carte per le tasse. Sì? E poi? Poi, il mio dottore di lavoro non mi ha voluto aumentare e io mi sono licentiato. Poi sono venuto qua. Qua dove? A Modena? A Modena. E come mai è venuto qui? Eh, perché c'era mia sorella che si era sposata qua. Capito. E sono venuto qua e sono andato a lavorare in una fabbrica a formigiene, la Lara. E di cosa lavorava in questa fabbrica? Facevamo della plastica, dei secchi, dei giochini di plastica. E poi sono andato a lavorare in un'altra fabbrica che facevamo una zincatura. Ma mi aveva detto che lei lavorava pure con i cartoni prima di andare... Sì, prima sono andato a lavorare in un'altra fabbrica e facevamo i scatoli di cartone. Le scatoli di cartone? Sì, ma non mi ricordo più come si chiamava. E per quanto ci ha lavorato là, più o meno? E là ci ho lavorato poco, più di un paio di mesi ci ho lavorato. Poi sono andato a lavorare nella fabbrica di plastica. E poi alla zingatura. Poi sono andato alla zingatura e ho finito la mia carriera alla zingatura. Per quanto ha lavorato alla zingatura? Più di vent'anni ho lavorato alla zingatura. E poi si è messo in pensione a che età? Poi a 60 anni sono andato in pensione. E ha continuato... Con i contributi e ho smesso di lavorare. Perfetto. Grazie mille signor Sintuoco. Arrivederci. Arrivederci.